Ciao a tutti, quest'anno avete già deciso cosa mettere sotto l'albero? Io vi consiglio Rock e Arte di Ezio Guaitamaki, un manuale ricco di illustrazioni che vi racconterà quali capolavori e quanto impegno si nascondono dietro le copertine, i poster e i videoclip dei più celebri album musicali del secolo scorso. Comprate questo libro, regalatelo a qualcuno appassionato di musica e scoprirete come le rock star possono diventare artisti e come l'arte diventa rock.